Lettori e web spettatori di Benevento News 24, ben ritrovati da Marcello Spaziani dal Mancini Parcotel di Roma, dove il Benevento ha concluso il suo ritiro precampionato con l'ultimo amichevole. La strega ha battuto 3-0 la Roma Primavera, con i gol di Lanini nel primo tempo, di cui uno su rigore, è pinato nella ripresa. Un buon test per il Benevento, che ha avuto modo di mettere ulteriori minuti nelle gambe dopo le vittorie inamichevoli contro San Giorgio del Sagno e Roma City. Una gara utile anche per alzare i giri del motore e testare i ritmi partita, considerando che la strega, dopo un paio di giorni di riposo concessi da mister Auteri, tornerà al lavoro mercoledì 7 agosto, in vista dell'esodio stagionale. Domenica 11 agosto, infatti, i giallorossi ospiteranno al Ciro Vigorito il Taranto, nel match valido per il primo turno preliminare della Coppa Italia Serie C 2024-25. L'esordio in campionato, invece, è in programma lunedì 26 agosto, alle 20.45, nel derby campano contro la Cavese, sempre al Ciro Vigorito. Lato campagna abbonamenti, infine, nel weekend è stata superata quota 3.000 tessere staccate. Il dato diffuso domenica 4 agosto, infatti, parla di 3.013 abbonamenti sottoscritti.